Anche Nello Oliveri ha giurato, fa parte della nuova giunta mesano, ma già si sapeva, però inizia ufficialmente il lavoro. Oggi alle ore 14 ho prestato giuramento nelle mani del sindaco, presso il suo ufficio e ufficialmente da oggi siamo al lavoro all'interno dell'amministrazione. Speriamo di operare per le giuste risposte che la gente si aspetta e di dare un segno di discontinuità a questo Paese che da 4 anni purtroppo ne sente la mancanza. Un impegno che sarà anche più pesante alla luce del ridotto numero di assessori rispetto all'ultima legislatura. Sì, non so quali saranno le delche che verranno assegnate ad ognuno di noi, è chiaro che essendo ridotta di 2 unità l'aggiunta nel suo complesso, il numero delle delche sarà maggiore per ogni componente. Non ho preferenze alcune, non ho posto nessuna condizione al sindaco, quello che mi verrà assegnato, spero di essere in grado di saper onorare.